Siamo pronti? Partenza, direzione Monaco, Munich High End 2022. Andiamo oltre i confine. Nettiamo un po' sottotitolo. 5. Rellevita la fila del filtro del lavoro che diventa alla ruota del fostero delядimento. 7. Clirporre la filtrade di montaggio di filtrade di pinza dei elementi di pinza dei articolato. 8. Passa la filtrade della filtrade di fostero del fondo. Grazie a tutti. Primo giorno di Monaco IEND 2022, posso dire che sono molto soddisfatto perché con i miei ragazzi abbiamo fatto un bel lavoro per valorizzare al meglio il brand dei miei clienti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.